Se la proposta che può uscire dal governo o di iniziativa parlamentare è quella di dare risposte mirate a badanti che lavorano in famiglie dove ci sono oltre a settantenni, persone con problemi fisici o handicap, su questo siamo disponibili a ragionare. Lo ha detto Luciano Dussin, vicepresidente dei deputati della Lega Nord, nel corso di un'intervista all'agenzia radiofonica Eco News. Siamo contrari, ha aggiunto, a ripetere le solite sanatorie che creano solo confusione, disguidi e maltrattano i cittadini extracomunitari che si sono rivolti al nostro paese per mettersi in posizione regolare. Sempre sulla questione badanti è di oggi la notizia che è stata presentata da senatori del PD e del PDL, un emendamento che di fatto propone una sanatoria ed è il capogruppo della Lega Nord in Senato, Federico Bricolo, a farsi portavoce della posizione della Lega Nord. L'emendamento per la regolarizzazione dei clandestini presentato al Senato non è altro che una sanatoria indiscriminata che non può essere in nessun modo accettata. Per questo la proposta in questione è morta in partenza e non ha alcun futuro, dichiara Bricolo. Stupisce il fatto, prosegue Bricolo, che questa proposta abbia il sostegno anche di alcuni esponenti del PDL, visto che il governo ancora ieri in occasione del Question Time è stato chiarissimo, nessuna sanatoria indiscriminata sarà consentita. Sono convinto comunque, conclude Bricolo, che quella di aderire a questa proposta da parte di alcuni senatori del PDL sia la scelta di pochi e non certo espressioni dell'intero gruppo parlamentare che seguirà come sempre le indicazioni del governo. Anche l'europarlamentare del PDL Muscardini dice no alle sanatorie e propone regole chiare. E sempre sul fronte immigrazione il Frontex a dichiarare che gli arrivi sulle coste italiane sono dimezzati. Quindi voto positivo all'operato dal ministro dell'interno Roberto Maroni arriva anche dall'Agenzia Europea.